Io sono qui con voi oggi come l'Apostolo Paolo lo era per la Chiesa di Corinto e lui dice perché non mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Cristo Gesù e Lui crocifisso. Di non sapere altro se non Cristo Gesù e Lui crocifisso. Sapete, quando ero ragazzo e lavoravo in un ristorante a volte ero stufo di quello che facevo e mi rinchiudevo in cucina perché ero stufo della gente. Mentre preparavo questo messaggio ho detto, Signore io sono stufo di dottrina e teologia, io voglio la potenza. Quanti in questa Chiesa sono stufi di teologia? Alzate la mano. Non dico che non sia utile, sto dicendo che la Chiesa, noi, le nostre famiglie, i nostri figli, la nostra società ha bisogno di toccare la potenza di Dio. E al tempo in cui l'Apostolo Paolo stava predicando aveva davanti filosofi stoici, epicurei, greci, ellenisti culturati. Ma lui dice io non sto venendo e non voglio venire a voi col bagaglio della mia sapienza. E lui ne aveva perché era cresciuto in una Chiesa, in un luogo scusate, non in una Chiesa, ma ai piedi di persone che l'avevano preparato culturalmente a conoscere Dio con la sua teologia. Ma lui ha detto io reputo tutte queste cose tanta immondizia. Perché? Perché io preferisco presentarvi Cristo e la sua croce. L'altro giorno ero in un negozio team, venerdì. E c'era una donna che serviva al banco. Iniziamo a parlare di cose tecniche riguardo contratti di cellulari, cose del genere. Avevo bisogno di mettere a posto alcune cose per il mio. E osservo che ha un braccio tatuato e sul braccio una bella croce. La guardo, stavamo parlando di telefono e di contratti, ma qualcosa inizia a muoversi dentro. E non mi posso fermare, cambio discorso e dico ma scusa sei credente? Cogli la palla a balzo, l'ha fatto l'Apostolo Paolo, era lì, nel partenone, vede tutte le statue. Dice, ah che bravi, come siete religiosi, guarda quante statue che avete. Però ce n'è una senza nome, vi dico io chi è. Io ho fatto lo stesso. Volete una rivoluzione? Approfittate delle occasioni. Se portate la rivoluzione nella vita della gente, scoppierà nella vostra la rivoluzione. Lei mi guarda e dice, no, i miei genitori non erano religiosi, io non sono religioso, i miei nonni lo erano. Mi fa vedere l'altro polso e pam, un'altra croce qua. E la miseria! E io dico, ma allora perché queste due croci qua? Perché mi piace il simbolo. E si è tatuata due croci, una qua e una qua. Unicamente perché gli piaceva il simbolo della croce. Ma che cosa rappresenta per lei una croce? Non potevo predicare in quel negozio, ma posso predicare a voi. L'Apostolo Paolo dice, io mi sono ripromesso di non parlarvi altro. Non voglio parlarvi di filosofia. Non voglio parlarvi di teologia. Vi voglio parlare della fonte della potenza. La croce. Alleluia. Per mezzo della croce, Cristo Gesù ti ha salvato. Ti ha salvato da che cosa? Dall'inferno. Ti ha salvato dall'inferno. Ti ha tirato fuori. Per mezzo di che cosa? Della croce. Per mezzo della croce ti ha redento. Ti ha redento. Vuol dire che ha pagato il prezzo per te. Tu eri stato venduto schiavo. Lui ha pagato il prezzo al posto tuo. Per mezzo della croce, con la sua vita, ha pagato quel prezzo. E tu sei stato liberato. Per mezzo della croce sei stato giustificato. Che cosa vuol dire? Sei stato reso giusto. Noi siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Siamo giusti. Per mezzo della croce si è stati santificati. La santificazione è qualcosa di posizionale. Quando Cristo è morto in croce, io l'ho accettato. Sono diventato santo. Oggi cammino sulla via della santificazione. Ma la mia posizione è di essere giusto e di essere santo. Dillo alla persona accanto. Io sono giusto. Io sono santo. Digglielo. Per mezzo della croce Cristo Gesù ti ha perdonato. 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 Tutti i tuoi peccati. Dalla natura del peccato. Ai peccati passati. Ai peccati presenti. Ai peccati futuri. Sia stati perdonati in Cristo Gesù. Il prezzo è stato pagato per sempre. Questo non vuol dire che non dobbiamo rivolgerci a Dio. Quando riconosciamo i nostri errori sto dicendo che il prezzo è stato pagato. Alleluia. Alla croce Cristo Gesù è stato fatto sapienza per noi. Che cosa vuol dire? Che Lui sulla croce ha voluto trasmettere la sua sapienza a noi. Cioè fare le cose giuste nel modo giusto nel tempo giusto. E chi è senza sapienza la chiede a Dio che dona liberamente senza domandare nulla in cambio. Alla croce. Alla croce. Dio ci ha benedetti. Noi non abbiamo il bisogno di cose. Io so di avere la natura della benedizione per cui eredito anche le cose. Non vado in cerca delle cose. Vado in cerca della benedizione di Dio. La scopro nella parola di Dio. E io so che sono benedetto in Cristo Gesù. Dillo alla persona che ti sta accanto. Io sono benedetto in Cristo Gesù. Perché la persona che ti sta accanto potrebbe non sapere questo oggi. Ma tutto questo è alla croce. Tutto questo è alla croce. Dio mi ha reso prospero alla croce. Il giorno in cui Gesù è morto su quella croce. E io ho ereditato. Ho ereditato. Ho ereditato. Che cosa? I dai tesori di Dio. Sono entro nella parte della famiglia di Dio. Sono erede con Dio e coerede con Cristo. E sono coerede oggi con Cristo. Non aspetto di andare in cielo per essere re del cielo e del paradiso. Oggi io voglio vivere il paradiso nella mia vita. Oggi voglio vivere il paradiso nella mia famiglia. Oggi voglio vivere il paradiso nella mia vita di coppia. Oggi voglio vivere il paradiso con i miei figli. Oggi voglio vivere il paradiso dove lavoro. Oggi voglio vivere il paradiso nella città. Oggi voglio vivere il paradiso nella nazione. Oggi voglio vivere il paradiso nella mia chiesa. Non aspetto di andare in cielo per vivere il paradiso. Oggi impariamo a vivere il paradiso in terra. Perché? Perché Cristo Gesù è morto in croce per farci vivere il paradiso in terra e non un inferno. Ditti a me, ma pastore c'è il peccato, non vedi? C'è il peccato che ci circonda. Sì, ma non hai letto cosa c'è scritto dopo? Che dove il peccato abbonda? La grazia di Dio sovrabbonda! La grazia di Dio sovrabbonda! Pastore c'è il peccato, le cose non vanno bene, ma sta anch'è scritto dove il peccato abbonda. La grazia di Dio sovrabbonda! Erano le 4.34 di notte. Ero a letto e saltavo sul mio letto. Non riuscivo a star fermo. Saltavo sul mio letto. Avete mai letto che è possibile saltare a letto di notte? Sì? L'avete letto che è biblico? Wow! Non riuscivo a star fermo. Pensavo, pensavo, meditavo il messaggio. E dicevo, ma signore che cosa succede oggi? E Dio mi ha detto, oggi è il giorno della rivoluzione. L'hai predicato, ma non ha senso predicare un messaggio se non lo tocchi con mano. Oggi è il giorno. Oggi è il giorno e Dio dimostrerà che questa rivoluzione esploderà dentro di te e dentro di noi. Lo farà Lui. Lo faremo noi. Lo farà Lui. Ci ha reso prosperi. Ci ha guarito la croce. Alla croce. Per le sue lividure siamo stati guariti. Io potevo predicare tutto questo a quella ragazza. Non avevo modo, non avevo tempo per farlo. Ma chiesa, voi riuscite a capire che cos'è la croce? Quello che per i romani era uno strumento di tortura, per noi è grazia. E' la grazia che ci ha reso liberi. E voi non vedete croci qua, le vedete una sola in questa chiesa lì dentro. E magari non vi siete mai chiesti come mai io ho scelto quel logo per la nostra chiesa. Che silenzio. Perché quel simbolo, la fa falla, all'origine è metamorfosi. E se noi non passiamo attraverso una metamorfosi dal peccato alla grazia, dallo strisciare come mi insegnavano quando andavo io in chiesa, devi strisciare. Ah, mi dispiace, i figli di Dio non strisciano. Io strisciavo quando ero nel peccato, probabilmente non lo sapevo neanche, quando ero perso. Ma in Cristo Gesù? Io adesso volo! Io adesso volo! E dobbiamo imparare a volare! Dobbiamo imparare a volare! Ma non puoi volare se ti vedi ancora bruco! Se vuoi volare ti devi vedere farfalla! E tutto quello ha a che fare con rinnovare la tua mente. Rinnovare la tua mente è metamorfosi! Ecco perché hai scelto quel logo, perché attraverso la croce noi rinnoviamo la nostra mente, prendiamo la parola di Dio, cambio il mio modo di pensare, di vedere me stesso, di agire, di credere nelle cose. E la mia vita è cambiata! E oggi non mi vedo più come qualcosa che deve strisciare! Io sono una nuova creatura in Cristo Gesù! Le cose vecchie sono passate! La Bibbia dice che tutto è diventato nuovo! Ma alla croce! Non solo Gesù mi ha guarito perché ha preso le mie malattie, le mie infermità e i miei dolori, ma mi ha anche unto! Mi ha consacrato, ti ha consacrato alla croce! Con l'unzione, facendoti diventare un sacerdote e un re! Tutto questo è avvenuto alla croce! Senza quello tu non potresti mai essere un sacerdote o un re per la tua vita e in casa tua! Alleluia! Gloria a Dio! Chi vuole prendere adesso la sua croce? Alzi la mano! La Bibbia dice prendete la vostra croce e venite dietro a me! Magari dieci minuti fa tu non avresti mai voluta prendere la croce perché ti mancava la rivelazione! Vedevi la croce solo come uno strumento di tortura romano! Vero? Anch'io la vedevo così una volta e non la sopportavo la croce! Poi Dio mi ha aperto gli occhi! Mi ha detto no guarda che quello è uno strumento di grazia! Non è uno strumento di tortura! È stato uno strumento di tortura per Gesù! Ma per te è uno strumento di grazia! E oggi dico signore questa croce io la voglio portare! Questa croce la voglio portare! Non voglio portare la tua perché l'hai portata tu! E l'hai fatto per me perché la dovevo portare io! Ma questa croce di grazia io la voglio portare! La croce! E ancora Per mezzo della croce Su quella croce Gesù ha inchiodato il documento accusatorio Su quella croce Cristo ha preso il documento che ti accusava Quando il diavolo come avvocato accusatore Prendeva le tue colpe E le portava davanti a Cristo E diceva guarda non è giusto È un peccatore Non può essere salvato Non può riceverti come signore nella tua vita Perché? Perché non è degno E allora Gesù cosa ha fatto? Ha preso dalle mani del diavolo quel documento accusatore E l'ha inchiodato sulla croce per sempre Affinché tu diventassi libero E il diavolo non ti potesse più accusare Il diavolo non può accusare i figli di Dio Perché? Perché c'è colui che ti ha giustificato Alleluia Gloria a Dio E ancora Ma lo dovete vedere Io ve lo voglio far vedere Andate in Colossesi per piacere Nell'epistola dell'Apostolo Paolo e Colossesi Siamo al capitolo 2 Al versetto 14 Dice egli ha annientato il documento Annientato 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 vuol dire che non solo è appeso alla croce Il sangue di Gesù ha polverizzato letteralmente il documento Non lo potete più nemmeno trovare Non esiste più Non esiste un documento che il diavolo può portare davanti a te per accusarti Non lo può più fare È stato annientato Polverizzato Non esiste un documento Lui viene e ti accusa E tu gli puoi dire Ok mostramolo un documento Non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Gloria a Dio Versetto 15 Alla croce Alla croce cosa ha fatto Alla croce Alla croce cosa ha fatto Al versetto 15 Di Colossesi 2 Alleluia Avendo quindi spogliato Spogliato I principati L'epotestà Ne ha fatto un pubblico spettacolo Ha preso i demoni Ha preso il diavolo E ne ha fatto un pubblico spettacolo Oggi andiamo nei teatri a vedere i spettacoli Cerchiamo i canali televisivi per vedere lo spettacolo Ma guardate lo spettacolo che c'è nella parola di Dio Quando Gesù ha preso il diavolo E l'ha portato in un pubblico spettacolo Alleluia Alla croce Alla croce Non serve tatuarti La croce è qua Non serve tatuarti La croce è qua La croce la dovete mettere qui dentro Qua va la croce Un pubblico spettacolo Ma non ha finito Ne ha fatto un pubblico spettacolo Ma non ha finito Ne ha fatto un pubblico spettacolo Ma non ha finito Perché ha triomfato Ha triomfato Ha triomfato Datemi un'amè per piacere Datemi un'alleluia Saltate Ha triomfato Alleluia Sul triomfo Non puoi restare seduto Sul triomfo Non puoi restare seduto Sul triomfo Non puoi restare seduto Alleluia Preparatevi Ma non ho finito Sono solo a metà del messaggio Accomodatevi No vi voglio dare tutto Quello che c'è alla croce Voglio condividere tutto Quello che c'è alla croce Perché è il fondamento Della rivoluzione È il fondamento Della rivoluzione Nella croce Non lo credevo Sapete Quando si parla di croce Si ha come un senso di angoscia Un senso di tristezza Un senso di dispiacere Perché sappiamo Che colui Che abbiamo amato Ci ha lasciato Ma non è finita lì Non è finita lì E me Alleluia Alla croce La Bibbia dice Che Gesù Ha sconfitto la morte A volte ci dimentichiamo Che la dipartita È anche una grazia Che ci porta fra le braccia Del Signore A vivere l'eternità Perché è possibile questo? Perché alla croce Gesù Ha vinto La morte E la Bibbia dice Che questo è l'ultimo nemico Che sarà sconfitto Ecco perché Oggi A causa del peccato Non a causa di Dio Perché Dio Ha creato L'uomo eterno Ma a causa del peccato Gli anni in questo corpo Si sono ridotti Ma a causa del peccato Non era la volontà di Dio È una conseguenza del peccato Che ha ridotto Gli anni della vita sulla terra Perché Perché il Signore ama Che noi impariamo a vivere L'eternità con Lui Anche nel cielo Ma io non voglio aspettare Di andare in cielo Ma voglio vivere anche qua Oggi Questo giorno Fa parte della nostra eredità Sulla Della nostra eternità Sulla terra Ma fa parte dell'eternità L'eternità È tutto quello Che è iniziato Il giorno in cui Dio Ha creato un uomo È l'eternità Che fare con qualcosa Che non può finire Perché non c'è fine All'eternità Tutto questo È stato fatto per te Sai dove? Alla croce Alla croce Alla croce Alla croce Gesù Ti ha promesso Che glorificherà Il tuo corpo Ciò che è mortale Rivestirà Immortalità Grazie alla croce Alla croce Gesù Ha detto Io vado al Padre Ma ritornerò Ci ha promesso il cielo Il cielo è una promessa Grazie al sacrificio in croce Alla croce Alla croce Gesù ha detto Io vado a prepararvi un luogo Una casa Un luogo per te Una dimora nel cielo Per te Grazie alla croce Il Signore è lì in quel luogo Che ha preparato E sta preparando Un luogo per poterci accogliere Una casa per te Come la desideri tu Non hai bisogno Non è che se ne da una Più grandi a me Non ha soldi E non ha a disposizione Per darne una a te Chiedetevi Sarà dato Bussatevi Sarà aperto Alleluia Oh gloria Io non voglio vivere La prosperità Solo nel cielo Io voglio vivere La prosperità Sulla terra Perché fa parte Del sacrificio di Gesù Se sono erede Ma pensate Pensate alla promessa Di quando noi abbiamo Lasciato tutto Io e mia moglie Due bambine piccoli Abbiamo lasciato tutto Su che cosa Ho mosso la mia fede Su quello che La parola di Dio diceva Che se lasci Casa Padre Madre I tuoi beni Io ti darò il centuplo Ma non finisce lì Sulla terra Sulla terra Io mi sono mosso Per fede Su quella parola Sapevo che c'era Una chiamata Nella mia vita Ma sapevo anche Che dovevo fare Un passo in fede E l'ho fatto Su quella parola Ho detto Dio tu l'hai promesso E quando siamo tornati E non avevamo niente In casa Da mangiare E non avevamo soldi Avevamo la promessa Di Dio E Dio non è un uomo Che può mentire Quello che ha detto Lo fa E voi lo state vedendo Oggi dopo trent'anni Alleluia Alleluia Oh gloria E non pensate Che l'abbia fatto Solo per me Perché lo fa Per i figli Chi sono i figli In questa chiesa Alzate la mano Mi piace Essere figli Di Dio Adesso Anche a me Mi piace Essere figli Di Dio Gloria a Dio Alleluia Ma dal momento In cui Gesù Era in croce Adesso Io lascio Questo luogo Ma vado in cielo E intercederò Ogni giorno Per te Egli vivere Vive Per intercedere Sempre per noi In questo momento Io so Che il Signore Sta pregando Per noi E tu mi schiedi Ma pastore Ma come va Siamo qui In 350 persone Non lo so Quante siamo Ma come fa A pregare Nello stesso momento Per tutti Non lo so E non mi interessa L'importante È che lui ha detto Che lo fa E io ci credo Di sicuro Lo fa per lo Spirito Santo Giusto? Lo Spirito Santo È in voi E allora Abbiamo capito Come lo fa Pensavate che non lo sapessi Invece lo so Perché me l'ha detto Proprio adesso È vero È incredibile Proprio adesso Prendete dall'ispirazione Dentro di voi Lasciatevi ispirare Per fare una rivoluzione L'unico modo In cui il Signore Può intercedere Nello stesso momento Per tutti È per mezzo Dello Spirito Santo Che è in tutti Alleluia Grazie Spirito Santo Alla croce Alla croce Gesù ha detto i Suoi Non temete Che non mi vedrete più Per un po' di tempo Per un po' di tempo Non temere Se non la vedrai più Per un tempo La rivedrai La rivedremo Non temete se non mi vedrete più Per un tempo Ci rivedremo E vivremo insieme È una promessa Grazie alla croce Grazie alla croce È una promessa Grazie alla croce Per piacere Tornate in Prima Corinzi Capitolo 1 Versetto 18 Infatti 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 Il messaggio della croce È follia Per quelli che periscono Ma per noi Ma per noi Chiesa Ma per noi Che siamo salvati È la potenza di Dio Quando voi Predicate la croce Di Cristo Cosa c'è In quei tatuaggi Noi lo sappiamo Tu lo sai Quella croce È la potenza di Dio Per chiunque Crede È la potenza Di Dio Dice il versetto 18 Il messaggio Della croce Infatti È follia Per quelli che periscono Se voi Predicate la croce Il mondo Anche il mondo Religioso Altro religioso Vi prenderanno Per fanatici Vi prenderanno Per degli illusi Lo so che è così Ma quando tu parli Della croce Il cielo si apre La potenza di Dio Scende E tu inizi a saltare Alle 3.34 Sul tuo letto Perché non riesci Più a dormire Infatti il messaggio Della croce È follia Per quelli che periscono Per i sapienti Intelligenti I teologi Non sanno Non sanno queste cose Che voi state Scoprendo oggi Che state Sperimentando Da anni In questa chiesa Ma lui dice Ma per noi Che siamo salvati È la potenza Di Dio Guardate Versetto 23 Ma noi Predichiamo Cristo crocifisso Che è scandalo Per i giudei Follia per i greci Ma per quelli Che sono chiamati Per quelli Che sono chiamati Sia giudei Che greci Noi Predichiamo Cristo Potenza di Dio E sapienza Di Dio Alleluia Ora 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 È il momento Della rivoluzione Per te Oggi è il giorno Ma ora è il momento Alzatevi Il mio messaggio Il capitolo 2 Concludo con due versetti Ma non conclude Lo Spirito Santo La mia parola E la mia predicazione Non consistono In parole persuasive Di umana sapienza Non sono un teologo Non ho studiato teologia Ma Dio conosce il mio cuore E conosce il desiderio Del mio cuore È così come conosce Il vostro desiderio Il desiderio Il desiderio Del vostro cuore La mia predicazione Non consiste In parole persuasive Di umana sapienza Ma in dimostrazione In dimostrazione Ecco ciò che fa Una rivoluzione Quando passa Passa dal predicare Alla manifestazione Alla manifestazione In dimostrazione Di spirito E potenza Affinché La vostra fede Ed è qui Che entra in gioco Il collegamento Fra la potenza Di Dio E te La tua fede La tua fede La tua fede Deve prendere Questa parola Oggi E dire Io sono rivoluzione Affinché Affinché la vostra fede Non fosse fondata Sulla sapienza Degli uomini Ma sulla potenza Di Dio Alleluia Oh alleluia Oh gloria Chiudete i vostri occhi Lasciate lo spirito Santo agire Adesso Preparami Una rivoluzione D'amore